Non cominciare, fammi abbassare il volume della tv, sta fermo, sta fermo, non ci provare, non ci provare, Gaetano, Gaetano, metti, quella è la mia bistecca, hai capito? Il fatto che tu sia apparecchiato permanentemente sul mio tavolo non significa che tu mangi le cose che mangio io, va bene? Va bene? Buongiorno Aspetta, aspetta, te lo do io il grassino, non ti fa neanche bene, aspetta, aspetta Grazie 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 Grazie